Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in locazione ad associazioni senza scopo di lucro degli immobili di proprietà dell'ente che prima erano occupati dagli uffici della solidarietà sociale e dalle segreterie universitarie. Gli immobili ad uso non abitativo sono ubicati a Caltanissetta e precisamente il più grande di 340 metri quadri e a due elevazioni si trova in via De Nicola, gli altri due invece sono situati uno di 111 metri quadri in Viale Trieste ai civici 37, 39 e 41 e l'altro di 89 metri quadri sempre in Viale Trieste ma al civico numero 45. Alla procedura di assegnazione possono partecipare le associazioni riconosciute senza scopo di lucro iscritte ad uno dei registri attualmente in vigore quali ad esempio i registri regionali delle organizzazioni di volontariato, sociale, il registro unico nazionale del terzo settore o il registro delle persone giuridiche che svolgono attività di assistenza sociale e sociosanitaria, di tutela dell'ambiente e della specie animale, culturali o scientifiche e di promozione nel campo sportivo. La locazione avrà una durata di sei anni e potrà essere rinnovata soltanto per una volta. Il valore di locazione annuale stabilito come base d'asta ammonta a 18.768 euro per l'immobile sito in Viale Nicola, 6.127,20 euro per l'immobile di 111 metri quadri collocato in Viale Trieste e 4.912,80 euro per quello di 89 metri quadri sempre sito in Viale Trieste. Gli aggiudicatari comunque potranno scomputare dal canone di locazione le spese relative alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per l'adeguamento dei locali all'uso associativo e per il miglioramento dei servizi offerti alla collettività. La procedura per la locazione degli immobili prevede la valutazione delle offerte da parte di una commissione giudicatrice che potrà attribuire fino a 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per quella economica. È possibile consultare il testo integrale del bando sul sito web del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e le associazioni interessate potranno parteciparvi entro le ore 13 del prossimo 15 marzo.